Si conclude con due vittorie per 5 a 0 e 4 a 1 la due giorni della nazionale italiana calcio a 5 contro la Romania a Prato. Mister Michele aveva bisogno di questo test in vista dell'inizio degli europei nel 2014, una formazione quella italiana piena di oriundi ma una formazione che ha dimostrato di avere grandi capacità realizzative e di avere in Mammarella uno dei migliori, anzi il migliore portiere al mondo. Formazione che in due giorni a Prato ha portato moltissimo pubblico riavvicinandolo a questo sport che sta crescendo anno dopo anno in modo esponenziale ma che ha sempre bisogno di essere sopportato e supportato dalla nazionale in un palazzetto storico come quello di Prato. Più di 5.000 persone in due giorni sono state presenti a vedere questo grande evento dopo 20 anni di assenza appunto dal capoluogo di provincia di Prato. Un palazzetto extraforum veramente pieno soprattutto di tanti bambini. Nella giorno di mercoledì è stato possibile presentare anche le formazioni allievi nel nuovo statuto che chiede appunto alle società di creare questa categoria di giocatori. Ai nostri microfoni la soddisfazione del direttore tecnico del commissario tecnico della nazionale e del bomber della secondo giorno con la sua doppietta. Il commissario tecnico Roberto Menichelli, il giudizio su questa Italia di gara 2. Beh anche questa sera credo sia stata una buona Italia così come ieri abbiamo giocato una buona partita giocata con ordine con intensità con molta motivazione anche perché avevamo di fronte un avversario che questa sera era molto agguerrito anche giustamente per ribaltare la gara di ieri. Quindi è sempre più difficile entrare in campo per una seconda amichevole. Invece i ragazzi sono stati bravi così come ho fatto ieri mi sento di fare loro i complimenti perché hanno fatto una buona prestazione. Faremo questa lista di 25 da dare alla UEFA, poi ce ne prendiamo 14 che giocheranno il campionato europeo. Certamente l'Italia negli ultimi periodi ha giocato con una squadra con una certa continuità. Vedremo se è necessario fare degli inserimenti per modificare quello di cui abbiamo bisogno, però lo vedremo anche in corso d'opera quando facciamo il raduno per l'europeo. L'Italia ha trovato in Prato una città accogliente che ringrazia gli azzurri, quasi 3.000 spettatori in due giorni, un buon bilancio. Siamo noi che ringraziamo Prato perché nonostante anche momenti difficili sono venuti a vedere le partite, sono sorpreso anche della partita di questa sera, pensavo di non trovare tanta gente, invece sono venute molte persone, ci hanno incitato e questo ci fa piacere. Speriamo di aver comunque restituito la cortesia degli spettatori di Prato e come abbiamo detto ieri, avere anche così dato un momento di serenità invece in un momento che è quello di tristezza per quanto è successo. Prima doppietta azzurra, leggera, una grande serata. Sì, sì, prima doppietta azzurra, una grande serata. Io come dico altre volte che ho segnato, non tante, ma ho segnato altre volte in nazionale, e dico che era importante fare bene perché erano due amichevoli di preparazione all'europeo e quindi era importante fare bene prima di tutto a livello di collettivo, quindi di squadra. Poi la doppietta ovviamente mi riempie di gioia, però speriamo di farne altre. Una doppietta bellissima, gran tiratore, leggero. Sì, sì, gran tiratore. Tiro, ci provo, mi alleno, provo a calciare di sinistro che è il mio piede, e altre volte non mi è andata tanto bene, questa sera è andata abbastanza bene. Potevo calciare altre volte, però ripeto, va bene così. Questa Italia fino a dove può arrivare? Può arrivare lontano. Abbiamo dimostrato le ultime competizioni, sia europeo che mondiale, di stare forse un passo dietro alle grandi, diciamo Spagna, Brasile. Quindi dobbiamo continuare a lavorare perché non siamo molto lontani da loro. Dobbiamo lavorare, lavorare e poi giocarci il nostro europeo. Comunque sono sicuro che possiamo arrivare lontano. Che atmosfera avete trovato all'Estraforum di Prato? Bella, bella, bellissima, come quasi in ogni palazzetto in cui andiamo, perché a differenza forse della nostra Serie A, la nazionale attira sempre tanta gente. Quindi anche qui a Prato avevamo bisogno ovviamente del pubblico, ci è stato, ci hanno acclamato dall'inizio alla fine, quindi contento anche del pubblico. Bello anche l'atteggiamento della nazionale nei confronti del pubblico, siete stati sempre molto disponibili anche con tanti ragazzi, tanti bambini a fine gara. È un'Italia che piace anche da questo punto di vista. Sì, sì, questo è alla base. Il mister, la prima cosa che ci chiede è di divertirci e di far divertire il pubblico, perché poi giochiamo anche per loro, quindi facciamo quello che è possibile. Se possiamo regalargli una gioia in questo periodo, in questa giornata in cui c'è stato lutto, quindi credo che questa gente voleva solo divertirsi, spero che l'abbiamo fatti divertire abbastanza. Sous-titrage Société Radio-Canada